Nel momento in cui abbiamo terminato le nostre animazioni possiamo esportare il nostro lavoro selezionando aggiungi a coda di rendering. Questa è una delle due opzioni di esportazione, la meno personalizzabile. Le impostazioni di esportazione sono queste. Cominciamo da impostazioni di rendering. Qui possiamo scegliere la qualità a cui vogliamo esportare, per cui alta qualità è la qualità del nostro progetto, mentre bozza è una qualità più piccola che può servire nel caso sia una bozza di un lavoro da far vedere. In questo caso vediamo che stiamo lavorando a 720p. Se utilizziamo bozza le dimensioni non cambiano, ma cambia invece la qualità. È anche possibile impostare impostazioni correnti per non cambiare assolutamente nulla dalle impostazioni della sezione a quelle di esportazione. L'unica altra cosa importante da tenere a mente è l'intervallo di tempo che vogliamo esportare. di default è impostato su solo area di lavoro, cioè esporteremo solamente l'area di lavoro che abbiamo selezionato. È possibile selezionare la lunghezza totale della composizione, anche se è raccomandato mantenere area di lavoro per avere un maggiore controllo sull'area che viene esportata. La frequenza dei fotogrammi è di 25, deriva dai fotogrammi della sessione, è possibile modificarli manualmente. Il secondo parametro è il modulo di output. Di default è impostato su senza perdite. Genererà un file molto pesante. Essendo su Mac non abbiamo a disposizione tutte le opzioni che avremo anche su PC. Manteniamo QuickTime, che è quella più utilizzata. E siamo comunque su RGB, milioni di colori. Questo lasciamo tutto così com'è. Ridimensiona anche, lo lasciamo così, a meno che non vogliamo ridimensionarlo, ma non mi sembra questo il caso. Qui abbiamo le opzioni audio, che sono standard, quindi vanno bene. Per quanto riguarda le opzioni formato, l'unico codec che suggerisco di usare per questo tipo di export è animazione. Si potrebbe andare su Apple ProRes, ma non funziona con tutti i tipi di animazioni, quindi è meglio lasciare questo. Per quanto riguarda l'output, è semplicemente l'ubicazione del nostro salvataggio. Quindi in questo caso scrivania, va benissimo così. E possiamo premere Rendering e lanciare il rendering del nostro progetto.